Ecco a voi il calcio, il calcio è pazzesco, chiudiamo il mese di febbraio nemmeno lontani parenti di quelli di gennaio. Il calcio gennaio abbiamo sofferto così tanto, abbiamo subito così tanti gol, che quell'esperienza ci ha resi ancora più cattivi, ancora più tosti di quelli che eravamo nei momenti d'oro dell'anno scorso. Oggi abbiamo vinto 2-0 e ci sta strettissimo, ci sta strettissimo, contro l'Atalanta mai pericolosa, però l'Atalanta mai pericolosa ma non possiamo dare senza voto a Mike Peterson Mignon. Perché siamo tornati a giocare in 12, ragazzi giochiamo in 12, nel possesso palla, nella fase di possesso noi siamo in 12. Cercatissimo dai compagni, sempre presi, non ha dovuto fare parate, però è stato regista della squadra, è stato regista della squadra ragazzi, è un altro sport con Mignon, è un'altra cosa, un'altra vita, un altro mood, un altro tutto. One Football, scaricate la lab di One Football, scaricate la lab di One Football, vi aspetta, la lab di One Football è gratuita, Allora, descrizione di questo video c'è il link, scaricate la lab di One Football, One Football, One Football, One Football, app gratuita, scaricatela. 2-0, 2-0 pieno, rotondo, quando ci voleva, come ci voleva, in una giornata importante, giornata bella rotonda, giornata bella da petto in fuori, ce la teniamo. Che dire, abbiamo sbagliato l'isbagliabile, ma abbiamo sbagliato dei gol clamorosi anche col Tottenham, anche col Torino e anche col Monza, cioè non è una novità. Però, però, se sbagli i gol e non ne prendi, alla fine quelli che fai, li capitalizzi e vinci. Iscrivetevi al canale, su, iscrivetevi a farmi vedere che, fatemi vedere che, almeno, adesso che sono un po' più biondo, un po' più con gli occhi azzurri, adesso che sono un po' meno aziendalista del solito, adesso che vi avevo detto di avere pazienza, visto che vi avevo detto di avere pazienza, ma avete tirato i pomodori in faccia, adesso vi iscrivete al canale, è gratuito, e vi iscrivete al canale. Mi avete insultato? E adesso vi iscrivete. Tutti quelli che mi hanno insultato adesso si iscrivono. Non abbiamo fatto niente, non è che dobbiamo fare i caroselli per strada, però, ragazzi, l'Atalanta, che aveva pareggiato 3-3 a Torino con la Juve, l'Atalanta, che aveva vinto a Roma con la Lazio, oggi messa totalmente in condizione di non nuocere. Poi con il fenomeno là dietro, che dirige tutto, perché poi domina l'area, l'area è veramente casa sua, si fa quello che dice lui, anche gli avversari fanno tutti quello che dice lui, cioè ha un carisma così pazzesco questo fenomeno totale, ci è mancato cinque mesi, ragazzi. Pensate cosa abbiamo lasciato lì in questi cinque mesi. Vabbè, c'è stato un mese e mezzo di mondiale, va bene. Poi abbiamo avuto comunque, con la crisi che abbiamo avuto a gennaio, ragazzi, che non era una crisi legata al portiere, comunque gennaio l'avremmo perso comunque. Va bene, dai, va bene. Adesso non pensiamoci, pensiamo a Malik Chao che gioca... Ecco, a me non è piaciuto l'arbitraggio oggi, francamente. Non mi è piaciuta l'ammunizione di Leao, che salta a Firenze, perché Leao... Allora, io ricordo, nel 87-88, la buonanima dell'arbitro Cornietti, che negli anni è finito lassù e guarda il calcio da lassù, aveva una sua parte di ragione, perché Gulliter è andato scientemente davanti a lui in ginocchio, in quella scolimina. Quasi in segno di scherno, di scenetta, di gag, l'arbitro non fa le gag e lo mando fuori, rimanemmo in dieci. Qui Leao non voleva... Qui Leao è andato giù di adrenalina, si è rialzato subito, ma perché ammonirlo? Hai deciso di non ammonirlo, perché lo devi ammonire? E poi, due volte, era palla nostra, prima con Diaz e poi con Decateler, l'arbitro troppo vicino alla palla, che è sempre un errore per l'arbitro essere troppo vicino alla palla. Mi impedisce ai miei giocatori di prendere palla e non ferma il gioco e non dà la palla a due. Ma veramente, Mariani, ma guardate che veramente ha dei toni, ha dei modi, veramente. Lo dico che abbiamo vinto. Ha dei modi che non capisco, francamente. Prende delle decisioni che non capisco. Andremo a Firenze senza Cruni e Celeao, che erano diffidati e stati ammoniti, sono squalificati. E si riposeranno per Londra, però è chiaro che è un'assenza importante. È tornato Zlatan, non soltanto Mike. Abbiamo giocato una partita, io vedo che Calulu, Teo e Tomori stanno giocando partite che rasentano la perfezione. Non sbagliano una palla, non sbagliano una lettura, non sbagliano un movimento, non sbagliano niente di niente. Teo è tornato Teo. Ragazzi, Teo Hernandez è una realtà del calcio mondiale oggi. Ma Teo Hernandez, ecco, Teo Hernandez è la dimostrazione di come, stando nel Milan, poi si cresce nella maniera giusta. Teo Hernandez oggi è il miglior Teo Hernandez di sempre. Rapporto fra fase offensiva e fase difensiva, ragazzi. È una fascia di capitano portata da un cigno del calcio, da un signore del calcio. Non è soltanto il gol. Tutte le chiusure che ha fatto, tutte le cose che ha fatto, ormai ha capito quando deve andare, quando è più utile che resti. Non va tanto per fare quello che gli riesce meglio. Quando deve stare giù, sta giù. Giocatore di qualità eccezionale, giocatore di livello europeo e mondiale, Teo Hernandez. E Messias, dall'altra parte, ha fatto una partita, ha sbagliato un gol clamoroso. Però ha lavorato tutta la partita, anche sulla fase difensiva, non ha sbagliato nulla. Poi sul gol del 2-0, ecco, io pensavo onestamente che Musso fosse in vantaggio. Musso, devo dirlo, non se la prenda Musso, ecco, Musso è un portiere che rispetto ai tempi dell'Udinese non è più cresciuto. Musso lì, secondo me, la palla era sua, però è uscito quel filo di secondo dopo, Messias ci ha creduto e ha messo dentro la palla dalla quale è stato risarcito dal destino della partita. Krunic, miglior prestazione della stagione, grande partita. Tonali, Tonali con otto giorni di riposo, sprigiona perentorietà e prepotenza fisica e tecnica in ogni angolo del campo. Bene, 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 ragazzi, siamo lì, siamo lì, si continua a lottare, è importantissimo. Adesso con l'Atalanta abbiamo lo scontro diretto a favore sulle due partite, 1-1 Bergamo 2-0 oggi, 2-0 rotondo, quanti gol che abbiamo lasciato lì, ragazzi, quanti gol. E' tornato Zlatan, siamo contenti, Brian Diaz è sempre stato vivo nella partita, è entrato molto bene, Charles de Ketlare è entrato molto bene. Va bene, avere tante risorse, tanti giocatori, bene, bene. Oggi il Tottenham ha battuto il Chelsea, ma noi dobbiamo pensare a Fiorentina, dobbiamo pensare a Fiorentina. Fiorentina che ha il Franchi, Fiorentina e Minos sono sempre duri, sempre nervosi, sempre intensi, quindi sarà durissima a Firenze. Ci tempererà la trasferta di Firenze in vista della trasferta di Londra. Certo, adesso, ecco, questa era nel nuovo campionato, dopo il derby di campionato perso, Fiore aveva detto alla squadra, il nostro allenatore aveva detto alla squadra, oggi inizia un altro campionato. E noi contro Torino-Monza abbiamo giocato le pariti di un altro campionato. Questo era il primo scontro diretto di un altro campionato, quello della lotta Champions, non più della lotta Scudetto. E l'abbiamo stravinto. L'abbiamo stravinto però senza fare i fenomeni, l'abbiamo stravinto come piace a me questo duello. L'abbiamo stravinto da squadra applicata, intensa, tenta. Ecco, non da squadra, ecco, ma da squadra, eh, non so se mi sono spiegato. Quindi, insomma, una risposta importante, segno che la squadra si è sintonizzata con la stagione, con quello che deve fare, molto importante quello che sta facendo il Milan, molto importante. L'Atalanta così non la batti, non la batti, Gasperini, alla fine di Atalanta-Lecce aveva detto andiamo a Milano a vincere. Tutta la settimana che a Bergamo non ha detto andiamo a Milano a vincere. Si può dire quello che si vuole nella vita, mancherebbe altro. Però, però, di fronte a questo Milan, tosto, caparbio, quadrato, duro, tugno, ecco, oggi, prima di dire vado a vincere col Milan, ecco, prima farlo, poi magari lo dici. Grazie, grazie ragazzi, grande serata, ci vediamo e sentiamo domani.